Ciao amici di Che Cucino, bentrovati nella mia cucina. Oggi preparo una parmigiana di melanzane. Prima di tutto preparo il sugo, mettendo in una pentola dell'olio extravergine di oliva e una cipolla a rosolare. Quando l'olio è caldo, aggiungo la salsa di pomodoro. Metto poi sale e pepe e lascio cuocere. Poi mi dedico alle melanzane, le lavo, le privo delle parti in eccesso e le taglio a fette. Le passo in una pastella fatta di uova, latte, un po' di farina, sale e pepe. Le passo poi nella farina e le frigo in olio di semi. Prendo poi una teglia, aggiungo il sugo e inizio con gli strati. Metto prima le melanzane, poi il fior di latte, poi il prosciutto cotto e continuo fino ad esaurire le fette di melanzane. A questo punto la parmigiana è pronta per essere infornata. Ed eccola qui, la parmigiana di melanzane è pronta!